Vangelo di Luca, capitolo secondo Vangelo di Luca Vangelo di Luca Si stupivano delle cose che si dicevano di lui Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione E anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Eserra Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere Sopraggiunte in quel momento si mise anche lei a lodare Dio E parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore Fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza E la grazia di Dio era su di lui E la grazia di Dio